Grande paura per il calciatore Giuseppe Rizza, 33enne, ex della Juventus, passato giovanile piancolere, ex compagno di Claudio Marchisio e Giovinco. Pensate che sarebbe ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Carnizzaro di Catania, ci troviamo nella regione Sicilia, dopo essere stato colto in maniera improvvisata una emorragia cerebrale. Rizza avrebbe avuto un malore improvviso, sarebbe ricoverato ora nel reparto di rianimazione. L'ex compagno Marchisio, attraverso un video pubblicato sul suo Instagram, ha mostrato piena vicinanza e non soltanto lui per quanto riguarda questo ex calciatore di ruolo. Ciao Peppe, sono Seba, ma che fai? La sveglia che appena riusciamo ci vediamo, ti mando un forte abbraccio con le parole di Giovinco. E poi anche è arrivato, diciamo così, il sostegno del grande Francesco Totti e proprio di lui, di Marchisio, ex compagno di Giuseppe Rizza. Vi ringrazio per l'ascolto, vediamo quello che succederà, speriamo tutto bene. Augurare Rizza tanti auguri di buona guarigione, di pronta guarigione, di buona vita. Speriamo che riesca a superare questo momento difficile della sua vita. Questo video non vuole, ripeto, non vuole ledere la sua privacy nei diversi persone, ma solo informare eventuali individualità umane del fatto che purtroppo sarebbe ricoverato in ospedale. Grazie a un salutone da Narratore Italiano.